Benvenuto in Passepartout. In questo video, vedremo insieme in che modo gestire il quadro RR di unico persone fisiche alla luce della circolare 97 dell'8 giugno 2016. Un apposito paragrafo di tale circolare definisce una diversa modalità di compilazione del quadro RR di unico persone fisiche, in presenza di crediti relativi ad anni precedenti. Il credito anno precedente compensato in F24, da evidenziare nel quadro RR, deve indicare tutti gli utilizzi effettuati dal momento in cui era stato generato nel quadro RR di unico 2015, fino alla presentazione della dichiarazione successiva, 30 settembre 2016. Contrariamente a quanto avveniva gli scorsi anni, questa indicazione comporta che per la corretta compilazione del quadro RR, devono essere effettuate due elaborazioni del credito residuo anno precedente. La prima, nel momento in cui si determinano i versamenti a saldo e primo a conto, in cui si va a riportare il credito 2014 residuo in compensazione fino a quel momento. La seconda elaborazione, deve essere effettuata nel momento in cui ci si accinge a inviare telematicamente la dichiarazione, per far sì che in RR confluiscano anche questi ultimi utilizzi, non effettuabili comunque oltre il 30 settembre 2016. Queste nuove considerazioni obbligano ad una nuova elaborazione delle gestioni IWS e gestione separata IMSS. Consigliamo di eseguire la nuova stampa di servizio stampa verifica crediti IMSS anni precedenti. Elenca le sole pratiche, in cui viene rilevata la presenza di un credito IMSS anni precedenti, che allo stato attuale nella gestione IMSS, Cipag, e conseguentemente nel quadro RR, non risulta completamente compensato in F24. Per le pratiche elencate dalla stampa, entrare nel quadro 24, Gestione IMSS, Cipag e selezionare la gestione prevista dal soggetto in esame. Nel nostro esempio selezioniamo la gestione IWS Artigiani e Commercianti. Posizionarsi nel prospetto Gestione Contributi anno precedente, e nella videata relativa alla situazione crediti, premere il nuovo pulsante Rideterminazione Utilizzo credito IMSS anno precedente. Questa funzione determinerà gli utilizzi del credito anno precedente, effettuati a partire dal saldo più primo a conto 2016 fino a questo momento. La procedura compilerà un nuovo apposito campo che sommato agli utilizzi effettuati in precedenza, fornirà il totale degli utilizzi del credito anno precedente, da dichiarare nel quadro RR. Al calcolo del quadro, la restante parte di credito anno precedente non utilizzata in compensazione, viene riportata automaticamente a rimborso. Da notare che nel quadro RR non viene compilato il campo 36, credito da utilizzare in compensazione. Tale campo, ora accoglie esclusivamente i crediti scaturiti dalla presente dichiarazione, e non anche quelli dell'anno precedente. Le considerazioni effettuate per i crediti relativi al contributo che eccede il minimale, sono valide anche per i crediti relativi al contributo sul minimale, e per i crediti relativi alla gestione separata IMSS professionisti.